Penso che noi dobbiamo fare una proposta che sia comprensibile e dica ma chi sostiene Draghi, questo governo, lealmente e che ci sta, che ci crede non solo che lo sostiene perché è obbligato dalla contingenza politica ma chi lo sostiene perché pensa che questa sia la miglior ricetta per il Paese è chiaro che può fare un percorso il giorno dopo. Chi è che non lo farà? Io sento la Meloni che si candida a fare il Premier, sento Salvini che si candida a fare il Premier. A sinistra sarà la stessa cosa perché ci racconta e cosa farà in campagna elettorale? dirà votate me che vado a fare il Premier, l'ho già fatto benissimo Letta sarà costretto a fare la stessa operazione e io dirò tra Conte, Salvini, Letta e la Meloni io preferisco Draghi.